Io sono Alessandra e sono il direttore creativo del gruppo Eidos. Come italiana posso garantire l'autenticità di macchia e arte perché come direttore creativo di Eidos mi sono ispirata, ci siamo ispirati poi insieme naturalmente all'ideazione di un locale che unisce in sé i materiali ma non solo lo stile, l'atmosfera, il colore, l'accoglienza di un posto italiano, di un caffè italiano. Naturalmente integrando con la storia dei caffè austriaci. Mein Name ist Clemens, ich bin der Architekt im Team Eidos. Meine Rolle ist genau die Schnittstelle zwischen unserer Kreativabteilung und der technischen Ausführung. Mein Name ist Anthony, meine Aufgabe in der Gruppe ist die technische Ausführung. Man sieht hier eine optimale Zusammensetzung zwischen Produkt und Ausstattung, die verschiedene Zusammensetzung zwischen Glas, Messing und Eichenholz. I materiali che abbiamo scelto per il nuovo negozio della Vibe Burgasse, Macchiarte, riflettono naturalmente la qualità del prodotto che Macchiarte vende, per questo i materiali sono preziosi. Ci sono quindi due buone ragioni per venirlo a visitare, bere un ottimo caffè, guardare delle macchine di ottima qualità e speriamo anche avere un'esperienza di design.